E' stato un regalo di Natale posticipato, quello consegnato ieri sera, nella sede del Centro Antiviolenza Riscoprirsi di Andria. Il gentile omaggio delle artigiane dell'Associazione Tutti Giù per Terra, che hanno donato alcuni corredini per neonati, lavorati all'uncinetto e ricamati a mano. Due copertine in lana e due lenzuolini, destinati ai bambini, delle donne ospiti del centro. Il risultato finale di un progetto dedicato ai lavori a maglia, partito nel novembre scorso e proseguito con dei laboratori organizzati nel centro commerciale Mongolfiera. Abbiamo pensato di aiutare delle persone in difficoltà, delle donne in difficoltà, per cui abbiamo pensato a dei bambini, quindi delle donne incinte praticamente, e abbiamo pensato di realizzare questi corredini. E quindi, siccome abbiamo un gruppo di artigiane, c'è la signora che fa l'uncinetto e abbiamo pensato di realizzare delle copertine in lana e ci sono le signore che realizzano ricami e per cui anche dei lenzuolini ricamati. Questa sinergia di persone abbiamo realizzato le due copertine, i due lenzuolini. Penso che saranno donati a Patrizia, provvedere a lei naturalmente, saprà a chi donarli. Un segno tangibile di vicinanza da parte dell'associazionismo locale verso quelle realtà, come appunto il centro di scoprirsi, che offrono supporto e assistenza alle persone, principalmente donne e minori, che subiscano una qualsiasi forma di violenza. Un bellissimo gesto di solidarietà e anche di impegno sociale da parte di tutte quelle persone, di tutti quegli enti, che non si occupano direttamente di prevenzione del contrasto alla violenza, ma attraverso questo tipo di azioni, così come è successo anche qualche settimana fa di un esercente commerciale di Andia che ci ha donato una serie di capi di vestiario per i bambini, sono gesti importanti di impegno sociale e quindi di contributo, ognuno per la propria parte, nell'ambito della prevenzione del contrasto alla violenza di genere. L'iniziativa si colloca nell'ambito del cartellone di eventi di non solo 25 novembre, la rassegna organizzata in collaborazione con l'assessorato alle pari opportunità del comune di Andria è incentrata sul tema della violenza sulle donne. Abbiamo organizzato un'esposizione presso l'Ipercop di Andria, grazie appunto alle artisti e alle artigiane dell'associazione Tutti Giù per Terra e di lì è venuta l'idea poi di creare qualcosa, di creare un prodotto da poter donare in modo tale da lasciare anche un segno tangibile di quello che è stato tutto il percorso che ci ha accompagnato durante la rassegna contro appunto la violenza di genere ma contro ogni forma di violenza. È necessaria questa sensibilità anche perché i casi di cronaca purtroppo ci dicono appunto che il fenomeno è dilagante quindi in qualche modo la città risponde e risponde nel migliore dei modi.